Amici, vi dico solo questo. Samsung. Allora, ragazzi, vedete, qui c'è accesso e seguito. Ora, appena vado per giocare, qui sto cercando di connettermi con mio cugino. Allora. Guardate. No, ma non è Xbox. Allora, guardate, appena è, ora mi esce errore. Si è verificato un errore, la sessione di PSN è stata interrotta. Cioè, non riesco a capire perché. Ragazzi, è arrivata. Vai, Alza. Aspetta, cioè, no, no, rompe. Aspetta, no, rompe. Allora, rompe. Allora, rompe la. Aspetta, no. Allora. Omega TV. Smart. Ma te la buona. Uh, quanti attacchi. Va bene, ciao. Ragazzi, insieme a voi accenderemo il mondo. Ma te la buona cosa è lì. Ma vabbè, hdmi, questo. Sorge. Io non studio l'inglese, eh. TV. Aspetta, uno. Aspetta, uno. Wow. Calma, non posso sentirmi. Mi, 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 mi. Aspetta, posso fare anche così? Beh, un attimino, eh. Questa è in HD. Prima il tasso rosso. Ah, buono, buono. Però, c'è la chicca. Vorrei farti notare che abbiamo buttato lì e fuggito un po' l'acchifonico dei Antonio. Guardate. Oh, beh. Ah, la rete 4. Va bene, ragazzi, poi ci vediamo, dai. E così, ragazzi, avete visto l'ultimo arrivato di casa Simonetti di Giorgio. Un grande affare. Amici nostri, amici caui. Stasera mangeremo pasta e mugnoli. Cavoli. Cavolfiore, vabbè. E lo sapete cosa comporta questo? Un sacco di piccole scorreggine. Dove sta? Mamma mia, ragazzi. Come sapete, noi avevamo mangiato pasta e cavolfiore. Si vede che nel mettere il pepe, avrò aspirato polvere di pepe e sto starnutendo come una scimmia pazza su un albero, non lo so, su un albero spigoloso. Allora, vedi, si va di qua, si si sbolla, c'è Tumblr, 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 Instagram. Sempre, non lo so fare sempre. Sempre, sì. La torcia, il message, il Facebook. Vabbè, comunque. E anche Lucia, qui lì gioca a Candy Crush, a quei giochi sminchiolati da donna. Dai, cosa state facendo, motore? Oh no, la ricetta è della nonna. Avrò un granellino di pepe piccato nella narizia. Sì, guarda. Dai, di nuovo. No, da... Sì, vai, inizia di nuovo l'inverno. Il 17 gennaio, poi vediamo che... Dolci in forno. No, va, andarsela a caccare, Back Off UK. Ho visto. Eh, ragazzi. La mangeresti? Col pistacchio, eh? Eh. Ma l'avete visto, Back Off Italia, stasera? C'è anche l'altra volta, l'ultima puntata. Ce l'avete visto, lo sceffo? Vi faccio vedere, vi faccio vedere qua. C'è proprio cose da pazzi. Vi faccio vedere il finale perché è abbastanza lungo. Aspettate. Oh. No, dove... Ah, eccolo. Faccio vedere, faccio vedere l'uomo. Vi faccio vedere il finale. Dai, guardate lo sceffo, eh. Guardate, guardate. Bam. Cioè, quello per fare la scivolata è per salutare. Gli saranno incappati i jeans sul pavimento che avranno fatto a trito. E se no, ti faccio a terra. Allora, ragazzi, come vedete io e Lucia stiamo imparando l'inglese. Andiamo sui plurali. Deve parlare. Vediamo, vediamo. Edda, vado. Sto mangiando. I am not a man. Ha, è sbagliata. Proveggiamo ancora. I am not a man. Oh. Amen. I am not a man. Potevo dirlo io? No, ma non potete. La ultima. Non potete. Non potete. Lucia si è emozionate. Allora, traduci questa frase. The girl eats apples. Allora. La ragazza mangia. La ragazza mangia. Ah, le mele. Ah, è sì. È sì, sì. Il ragazzo. Il ragazzo ha i cani. Vieni. E come ogni sera Finiamo il nostro video Nel bagno di casa nostra Per poi andare a letto Questa è la nuova Vedi? E Lily anche lì vuole dare la buonanotte A modo suo Bene, ragazzi. Allora, ragazzi. Sono troppo stanco. Avete visto l'amica sorpresa Che è arrivata oggi? Basta! Ok, ok, ok. Non troppo. L'amica sorpresa Che è arrivata oggi? Cioè, non che ci è arrivata Cioè, la siamo andata a prendere noi Ovviamente Perché non ti regali niente Nessuno Oggi Non ci succede oggi Nonna Non ci succede niente Voi Vieni ragazzi Io sono andata Aspetta, vieni, vieni Vi lascio il serio Che vi chiuderà Domenica Domenica Bruceremo quegli alberi di Natale Che veramente Non lì dobbiamo bruciare Ci hanno far fallato le palle di Natale Ma se zitta Non è venuto proprio a curo questa Madonna Io già mi sto preoccupando Per l'anno prossimo Perché? Ma non devo salire sopra L'armadio Che lo salida solo Ehi Come è uscito l'albero di Natale Che sanno? E' lui che sta tentando Di prendere Metà albero di Natale Perché poi ce ne sarà un altro Questo è Un minuto per vincere Vai Un minuto per morire Come è uscito? Agna gna L'indie proprio L'indie Io sono salito sopra la scala Siccome il nostro albero è diviso a due In due cartoni enormi Pesanti Cosa ho fatto? Per scenderlo Tipo gli africani Me lo sono messo in testa Così E sono sceso così Per un certo punto C'era l'inizio della scala Da sopra E andava a battere In pendenza E ho dovuto fare Voi mi sa che l'avete visto No? Sì L'ho visto nel video Sì Perché ti ho inquadrato Sì Com'è Eccolo Puff Chissà com'è Si ha aperto la sera la porta Ma non guarda pure Guarda Ho capito di niente È una pavoncella È una pavoncella Mica sono stata io Ed io sono di Pai Stavo facendo altre cose Io mi stavo trattando La zampetta Non mi ho aperto la porta Va bene ragazzi Dai Il video di oggi finisce qui Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Commentate Ma dopo c'è un granelo di pepe nel naso Mi stanno togliendo la vita Mi sono togliere Non ci interessa Ora lo devo andare a letto Sto sgocciolando acqua Da tutti i peli Da tutti i pori Da tutti i buchi del naso Mettete un mi piace Non sul nostro Di saveri che è cool Ma su tutti i video Buonanotte ragazzi Ciao Ciao C'è una pallina C'entra Non c'è una pallina No No Ciao Non ti conviene Dove lo bagni No Che schifo Sto sgocciolando Come un pifero magico Ciao ciao a tutti Buonanotte Che schifo Ciao Ciao ragazzi Buonanotte Gle 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 E anche da Lily Ciao Lily Ciao Ciao